Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare i primi due incarichi o prove dell'emissario alle prime armi, prove di avventura, cioè diventate emissari per una compagnia di commercio votando a uno dei loro tavoli degli emissari e come emissario rappresenta appieno la compagnia con il tuo costume. Perché per la terza cosa vi basterà vendere un oggetto prezioso alla compagnia che rappresentate. Quindi una volta che avete fatto diciamo i primi due incarichi il terzo viene da sé se vendete un oggetto di valore. Come fare questa questa serie di prove? Andate da un emissario che preferite quindi o quello dei forzieri o quello dei teschi eccolo qua o diciamo quello delle casse che trovate sul molo. Quindi prendiamo ad esempio l'emissario dei forzieri. Come vedete sulla destra vi è la possibilità di votare e quindi rappresentare la compagnia dei cacciatori d'oro. In questo modo diciamo farete esperienza e farete più denaro vendendo forzieri. Non potete votare fin da subito questo perché dovete parlare con il personaggio in questione e scoprire le offerte e dovete acquistare la diciamo la bandiera quindi dovete completare una serie di di prove di diciamo di vendite fino a quando avrete esperienza sufficienza per comprare la bandiera. E quindi una volta che avete la bandiera vi basterà fare così votare e il gioco è fatto. Naturalmente se giocate in cooperativa e qualcuno lo fa l'incarico verrà completato anche se non avete la bandiera. Per completare la seconda prova invece parlate sempre con l'emissario una volta che ovviamente avete votato e acquistate il vestito dell'emissario che è questo. Dovrebbe aggirarsi sui 65 mila come prezzo diciamo però non potete acquistarlo fin da subito ma dovete sempre acquistare la bandiera e comunque raggiungere un certo livello. Una volta che avete fatto questo acquistate diciamo il completo assicuratevi di votare e poi andate a vestirvi con il completo che avete acquistato. Potete farlo sia dalla nave sia dal forziere che trovate sull'isola il forziere degli indumenti che diciamo si trova solitamente all'esterno del negozio dell'apposito negozio. Quindi ci facciamo un bel giretto per trovare questo forziere. Eccolo qui c'è questa cassa apri forzieri indumenti. Potete trovarlo facilmente tenendo d'occhio questa insegna di uno stivale. Quindi andate qui scegliete come completo quello della compagnia che state rappresentando e avrete completato la prova. Naturalmente se giocate in due tre o quattro giocatori dovete tutti equipaggiare lo stesso completo e ovviamente votare la compagnia. Io il mio consiglio è quello di farlo da solo perché diciamo in questo modo completate subito le prove. Come terzo incarico vi è quello di vendere un oggetto prezioso al in questo caso al cacciatore di tesori. Quindi votate e indossate questo completo vendete un oggetto di valore e avrete completato le prove.